Ben tornati a tutti. Oggi è sabato, 27 gennaio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo pesci. Luna sgobbona, decisa a fare carriera? Se la carriera vi preme fate bene a mettervi in luce, ma senza urtare la sensibilità e i diritti dei colleghi, che ora vi considerano competitivi e tutt'altro che complici. Non è bello, rischiate di essere estragnati dalla solidarietà che unisce il gruppo, perciò analizzate subito il vostro comportamento e potendo innescate la retro. Ci sono altre cose, oltre al successo, che fanno parte della vita e la rendono bellissima, gli affetti, per esempio, la crescita dei vostri figli, i piccoli e piacevoli svaghi che di norma ci si prendono insieme alle persone care e con venere, Mercurio e Giove in se stile dovreste ben saperlo, ma da quando l'algido Saturno si è impossessato della vostra anima farfalla, rendendovi solitari pessimisti, tutti vi appare più difficile, mentre agli altri siete voi ad apparire strani, come rapidi da extraterrestri, che hanno lasciato lì il vostro involucro, portandosi via il resto. Sconfessatevi, tornate in voi, dedicando la serata e magari tutto il weekend ai vostri cari, grazie a una cena speciale o a una gita ben riuscita, che renderà felici tutti quanti, vi accorgerete di quanto pesanti fossero i vostri errori, giusto inseguire lavoro e successo, purché non si portino via la serenità. Non abbiate timore di chiarire con il vostro partner qualcosa che negli ultimi tempi vi ha dato fastidio e non poco. Solo non esagerate e non mostratevi poi pentiti del chiarimento richiesto. Non siete deboli ma potreste indispettire il partner. Buone nuove in arrivo per posta o per telefono. Una promessa che vi è stata fatta potrebbe rivelarsi inconsistente e potreste restare delusi. Preparatevi a chiarire al più presto una situazione tra voi e qualcuno che frequentate da un po' di tempo. Chiarimenti e soluzioni vanno cercate sempre con calma e non con l'impulsività. E la regola. Ostacoli per un progetto che avete in mente. Oggi vi sentirete sfiduciati e particolarmente tentati di abbandonarlo. Dovreste pensare di proiettarvi nel domani con più fiducia nelle vostre forze e nelle vostre capacità se siete alla ricerca di un lavoro oggi il cielo promette bene e alcuni transiti favoriscono le soluzioni. Alcune di voi oggi vivranno momenti davvero speciali e indimenticabili. Se non succede a voi non preoccupatevi, oggi Giove sembra proteggervi in special modo e il successo, soprattutto in amore, è solo rinviato. Sappiate oggi parlare con il vostro partner in termini chiari e se riceverete risposte evasive provate a metterlo alla prova. Attenzione a portafogli, portamonete e borse, potreste smarrirli per una vostra distrazione di troppo. La giornata inizia con una ventata di allegria ma poi volge, in serata, in malinconia. Questioni del passato da risolvere. Contatti con medici o infermieri. Qualcuno cercherà di ostacolarti. Passionalità. Attenzione alle spese. Il numero delle forze planetarie che vi sorride arriva oggi a 9. Nettuno, Dio della metamorfosi insieme a Saturno, sono sempre nel vostro segno e vi consentono di migliorare giorno dopo giorno la vostra vita, in special modo se appartenete alla prima e terza decade del vostro segno. Nel fidato Capricorno invece si radunano Mercurio, Marte e Venere, mentre Sole e Plutone sono nel buon vicino Aquario, infine il duo Giove-Urano è ospitato nell'amico Toro, tutti vi promettono faville in campo amichevole, familiare, affettivo in genere. Solo la luna in gemelli è neutra da leone, ma solo per non farvi essere tanto favoriti dalla buona sorte. La luna in leone vi parla esclusivamente di lavoro, mentre Urano in Toro orienta gli interessi verso studi, viaggio, commerci. Difficile conciliare la preparazione di un esame universitari piuttosto tosto con impegni lavorativi massicci che vi siete assunti ultimamente, ma dando un colpo alla botte e un al cerchio, con la duttilità tipica del vostro segno ce la farete anche stavolta. Amore ed Eros. Qualsiasi cosa abbiate da dire al partner, ai figli, agli amici, lo fate in modo così simpatico e originale che finiranno col darvi ragione. Felici per i vostri ragazzi che a scuola se la cavano bene e pur uscendo con gli amici non vi fanno trascorrere notti insonni alla finestra, intelligenti e ragionevoli, insomma, li avete addestrati proprio bene. Un nuovo amore è sbocciato da poco? Bene se ben vi comporterete, vi promette di essere particolarmente intenso e durevole. Transiti formidabili vi fanno vedere le vostre potenzialità in questa relazione e vi fanno operare le mosse che si riveleranno senz'altro vincenti. In special modo se siete nati in febbraio. Lavoro e denaro? Risultati discreti in azienda, ma i migliori li cogliete in affari e a scuola, un viaggio che si annunciava complicato si rivelerà invece veloce e oltre che piacevole, ricco di incontri interessanti coi quali scambiarvi subito cellulare e e-mail. Chiarissimo l'indizio, empatia immediata. Idee geniali a cui dar seguito tempestivamente, ma attenzione, se le lanciate nelle terre senza dar loro seguito, qualcuno se ne impossesserà soffiandovi il primato. Classico il caso di Marconi e Tesla, chi fu dei due a inventare la radio? Quali sono gli organi che si collocano nel vostro segno in base ai pianeti che vi sono ospitati, ovvero, nel vostro caso, Nettuno, Luna, Giove? I piedi prima di tutto, poi anche le difese immunitarie e la circolazione linfatica. Il vostro segno inoltre si allaccia alla possibilità di portare a termine la gravidanza e di arrivare a completare i fatidici nove mesi. Benessere. Tutto a posto, in forma e nemmeno tanto stanchi, nonostante la giornata pesante e densa di impegni. Anche se non sembra il contatto col pubblico sfianca, specie se siete un conferenziere o avete un ruolo di spicco e la gestione di questioni che dipendono dal vostro carisma. Non vi resta che ringraziare la vostra buona stella, sperando che sia così gentile anche tutte le settimane a venire. Per lei, lotta appassionata all'inquinamento, alla vivisezione e all'abbandono degli animali, in loro difesa farete fuoco e fiamme. Per lui, velocisti in moto o in auto confondete le normali strade cittadine con le piste da gara. Datevi una regolata, prima che provveda la pulizia stradale. Colore delle emozioni, rosso veneziano. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, nove, attività, nove, finanze, sei, benessere, sette. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.